Devo farlo proprio meglio, devo farlo meglio, meglio, meglio Quindi tipo così, così, e poi così Ci sono riuscito, non ci posso credere Voi mi volete male, perché non potete sempre lasciare mi piace quando faccio una serie del parkour Ogni volta lasciate tantissimi mi piace e mi dite Kendall ti prego, fai la terza parte, fai la seconda parte, fai la quarta parte E io poi sono costretto a completare le mappe di parkour Quando invece mi piacerebbe fare un episodio e basta Comunque, bentornati qua nella mappa più lunga di Minecraft Sì, avete capito bene, questa è una mappa infinita con più di 5.000 salti Provate ragazzi un attimino a fermarvi per due secondi, chiudete gli occhi 5.000 salti, ma non 5.000 salti anche se sbagli No, 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 5.000 salti corretti, quindi bisogna togliere tutti i fail Vabbè, avete capito, questa è la terza parte Se avete perso il primo episodio e il secondo episodio lo troverete qua sotto in descrizione Così li potete andare a vedere Oh, stai scherzando, che roba è questa? Io non ho mai visto un parkour del genere Ho come l'impressione che oggi sclereremo tantissimo Sì, molto Come potete ben sentire dalla mia voce sono stato malissimo Ho avuto la febbre per due giorni, tre giorni anzi quasi Adesso mi sto finalmente riprendendo E ovviamente cosa decido di fare io? Una mappa parkour Proviamo da questo lato, forse da questo lato È meglio Oh mio Dio Bene, sei fatto notte nel frattempo e noi ancora siamo qua Allora, come si fa questo salto? Ovviamente è un salto carpiato Il problema è che c'ho questo che non mi permette di farlo per bene Oh mio Dio, ce l'ho quasi riuscito Dai, dai, dai Dimostra ai tuoi fan che sai farla qualcosa Va, eh, vabbè, ma io tocco sempre quel blocco Ormai questa parte l'ho imparata a memoria La potrei fare tranquillamente ad occhi chiusi Visto? Nessun problema Il problema è diventato questo Non appena ne faccio uno Sono sicuro al 100% Che imparerò a fare anche tutti gli altri Il problema è che non riesco a fare quel salto Proviamo aumentando il FOV Magari mi viene meglio Oh mio Dio Ce l'ho fatta Col FOV aumentato ci sono riuscito Eh, ovviamente l'altro non ce la faccio Sono carico Sono pronto Ce la possiamo fare 3, 2, 1 Sì Perfetto Ok Dai, dai, dai L'ultimo Resta l'ultimo salto L'ultimo salto ce la posso fare, vero? Non sbagliare Non sbagliare 3, 2, 1 No, no, no No Cosa? Posso risalire, per favore? C'è un ascensore? Qualcosa? Una scala? Dai, no Non lo voglio fare da capo, ragazzi Oh mio Dio Ok Ce l'ho fatta Siamo di nuovo qua Ora mi posiziono 3, 2, 1 Sì 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 Non ci posso credere Ce l'ho fatta Ok Questo è un salto difficile da fare Però si può fare, vero? Perché non c'è nessun checkpoint E io non ho intenzione di rifarmi tutto questo coso da capo Dov'è il checkpoint? A proposito C'è Checkpoint? Dov'è il checkpoint? Non c'è neanche un checkpoint Eh? Non mi dire che sta là, eh? Oh mio Dio Ok Dai, che andano a sbagliare Ecco Bene Il video finisce qua Arrivederci No ma uno, raga Veramente diventa Scemo con ste mappe Oh C'ho paura C'ho veramente paura Sto tremando Per fare questo parkour Perché da un momento all'altro Potrei cadere E metterci altri 40 minuti A fare tutto quel percorso Ok Non sbagliare Non sbagliare Non sbagliare Bravissimo Così Così ti voglio Sì, sì, sì No No, 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 no Che mi hanno messo un salto Oh mio Dio Ok, si può fare, si può fare Tranquillo Ok, non andare nel panico Facilissimo Guarda, che ci vuole Fai così E come si fa sto salto ora Oh no No No, no, no Non lo voglio fare da capo No Eh, ma uno non ci può Mettere 20 minuti ogni volta A rifare la stessa Storia Mannaggia Alla miseria Io ora mi piglio questo Sblocco di smeraldo Lo piazzo esattamente Qua Oh, guarda Un checkpoint Oh mio Dio Spero che sta roba Possa funzionare Perché io mi sono Veramente stancato Di farmi tutto Quel parkour Vi giuro Ogni volta Ci metto 20 minuti E credo ve ne siete accorti Tutti quanti Non so quanti tagli ho fatto Comunque speriamo che questo Ora lo calcoli Come checkpoint E adesso la prova del 9 Lo calcolerà come checkpoint Sì Non ci credo Ha funzionato Bene Perfetto Ok, ciao ciao Blocchi rosa Ok, adesso ragazzi Sono molto Molto più rilassato Sapendo che non devo rifare Tutto il parkour rosa Da capo Ma per favore Per l'amor del cielo Qualcuno mi spieghi Come cavolo si fanno I salti con I blocchi Sulla testa Da capo Eh vabbè Vabbè Ma allora oggi Ma diciamo Dai ditelo Ditelo Non ti voglio fare finire Questo parkour Ditelo Ma che sei a di? Non è vero Ok, forse ho imparato Oh mio Dio Ho imparato a fare i salti con No, non ci credo Forse ho avuto solo fortuna Ok, va bene L'importante è che Ce l'abbiamo fatta Dobbiamo continuare adesso Così Vai Non puoi sbagliarlo Questo è facile Oh no 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 Che è successo Perché Come cacchio ho fatto A sbagliarlo quello Allora Vediamo di mettere in pratica Quello che ho imparato Quindi Credo di aver imparato A fare i salti Con il blocco Sulla testa Non ne sono Sicuro Però penso di aver imparato Basta fare così E poi Oh mio Dio Ho imparato Eh vabbè Ok Non mi può riuscire sempre Questo sembra Abbastanza semplice Ok Va bene 1 2 3 4 5 E poi 6 Poi 7 Molto semplice Fino ad ora Oh no l'ho detto Oh no l'ho detto Io ogni volta che dico Che è semplice Poi sbaglio in qualche modo Se succede qualcosa di stupido E sbaglio Quindi non dire più Che è semplice Stavo cadendo infatti Allora ragazzi Ricordate che non ci sono Checkpoint Quindi ancora Niente Checkpoint Dai dammelo un checkpoint Oh Per favore Non voglio rifarmi Tutto sto coso Da capo Do sta il checkpoint Eh E come ci arrivo là No è troppo distante Aspettate Penso Devo fare un doppio salto Carpiato Tipo così Ma sei fuori di testa Pensate un attimo Pensateci Se io non avessi messo Questo blocco di checkpoint Qua Io Rispunterai lì E mi dovrei rifare Tutto questo Percorso Tutti questi rosa Che sono difficilissimi Da fare Poi questo 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 Fino A salire lassù Fare tutto Quello Tutto Quello Tutto là Poi salire lassù Rifarmi tutto Quel percorso Per poi arrivare Per arrivare là E sbagliare Di nuovo Sicuramente Ecco Appunto No ma come sclero io Ragazzi nel parkour Nessuno ci sclera Cioè ma proprio ve l'ho sicuro Al cento per cento È impossibile trovare Qualcuno che sclera Più di me Questo è il parkour Del demonio Ve lo dico io Perché soltanto Una persona cattiva Riuscirebbe a fare Un parkour Del genere Non cadere Allora devo fare Devo fare Vi spiego cosa devo fare Devo fare un doppio salto Partendo da qua Quindi Salto E mentre faccio il salto Senza fermarmi Devo saltare di nuovo Girandomi E atterrare là Senza perdere neanche Un secondo Di velocità Quindi Già questo è sbagliato Devo farlo meglio Non cadere Devo farlo proprio meglio Devo farlo meglio 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 Quindi tipo così Così E poi così Ci sono riuscito Non ci posso credere Ok Eh Come ci arrivo adesso là Vuole che io faccia La stessa cosa Di nuovo Cioè vuole che io faccia Adesso un doppio salto Girarmi E andare là Oh Oh Che è successo Blocchi invisibili Raga Ci stanno i blocchi invisibili E perché E qua pure No qua no E qui Perché ci sono i blocchi No 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 Eh Ma che sei scemo Ma perché ci hanno messo I blocchi invisibili Allora aspettate Voglio vedere Se ci stanno anche di lato Ma di lato Mi sa che non ci sono No di lato non ci sono Allora Quindi 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 I blocchi invisibili Si trovano soltanto Davanti a me E si vede Perché mi bloccano il passaggio Secondo me L'unica soluzione qua È mettersi proprio Nell'angolino così Fare I salti Poi fare un doppio salto All'interno Di questo blocco E arrivare là È l'unica Anche perché Se io riuscissi a fare Questo salto Quindi ignorando I blocchi invisibili E arrivando lassù Per poi andare lassù La distanza che c'è Tra quello e quello È uguale a questa E questo Quindi non ha senso Cioè non ha proprio senso A meno che là ci siano Degli altri blocchi invisibili Che quindi devo fare tipo Così Poi così Poi così Poi così Poi così Poi così Che sarebbe veramente Da pazzi Credo che questo sia Il metodo Migliore Uno Due Vai Oh Ci sono riuscito Ma chissà come Vabbè raga Ovviamente ho utilizzato La game mode Ma non ce la facevo più Ci sono stato più di 30 minuti E non ho fatto neanche Un minimo progresso Quindi vabbè Comunque Allora Andiamo avanti Finalmente Abbiamo preso un checkpoint Possiamo dire addio A quei salti Veramente impossibili E continuiamo con questo parkour Io so che alcuni di voi Si arrabbiano Quando uso la game mode Ragazzi Però scusate Preferite che il video Finisca tipo Prima Perché non riesco a fare un salto O che io continui Piuttosto a giocare E a registrare Credo sia ovvia La risposta No Altrimenti non vi guardereste I miei video No Dai Quel salto era facile Credo di non aver mai registrato Una mappa parkour Per tutto questo tempo In vita mia E sicuramente voi Avrete visto Meno di un decimo Di quello che io In realtà Ho giocato Vai 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 Oh Non cadere Ok Bene Dai Non dovrebbe essere Troppo difficile Questo salto Sì Kendall Apri chakra Sì 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 È rilassato Piano Piano Non urlare Non urlare Dicevo È proprio semplicissimo Oh sì I tuoi fan adorano Quando fai la voce così Silenziosa E rilassante Quindi Bravo Continuo Perfetto Per benino Ok Dai che non ti ferma nessuno Ok Grande Kendall Bravissimo Oh sei carico Sei un campione Ecco Cosa sei Kendall Sei un Campione Sei un Cretino Sei un cretino Mio Dio Quanto è difficile Quella parte Annaggia a me Ce l'ho fatta Non ci posso E se Non si può fare Questo Ragazzi che faccio Volo Come si fa Quel salto No aspetta Ragazzi Seriamente Non posso Arrivare lassù Che c'è qualche Scala Qualche blocco Invisibile Ok E poi ci buttiamo All'interno dell'acqua Dove è il checkpoint Perché ancora Non c'è un checkpoint Sarà là Secondo me è là il checkpoint Dai dammi un checkpoint Dammi un Ho detto dammi un checkpoint Così Aspettate Secondo me Quello è un trabocchetto Sì Perché qua ci stanno Due blocchi Il che significa Che io devo provare A fare un salto doppio Sì 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 E infatti avevo ragione Ok facciamo l'ultima parte Vediamo fino a dove Arriviamo Che cosa abbiamo qua Una torcia Easter egg 3 di 5 Io non ho preso neanche uno Quindi ti lascio La easter egg Ok vediamo fino a dove arriviamo Dicevo E poi Interrompiamo quel video Perfetto Ragazzi spero vi sia piaciuto Questo video Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Non esiste che vi faccio La quarta parte No mi dispiace A meno che arriviate A 12.000 mi piace Comunque Oggi siamo passati Da là sotto Fino a qua su E ancora E in realtà Siamo quasi arrivando alla fine Ragazzi lasciate un mi piace Dal vostro imperatore Candle è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao